Questa esperienza fiorentina in un cinema di Novoli con i ragazzi e le ragazze di un istituto tecnico e di un prestigioso liceo scientifico fiorentini è stata direi incoraggiante. Mi hanno seguito con attenzione e mi hanno fatto domande di chi è bene informato e si pone la questione giusta. Basti dire che parlando molto di immigrazione mi hanno chiesto quali sono i diritti degli immigrati, in che cosa sono diversi dai diritti dei cittadini, perché i cittadini ne hanno di più e gli altri di meno. Noi studenti non dovremmo essere trattati tutti allo stesso modo al di là della nazionalità, poi certo mi hanno fatto anche domande che dimostrano quanto è elevata la disinformazione che può colpire tutti. Le dico una, c'era il reddito di cittadinanza, perché la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che lo ha reso illegittimo? Questa sentenza, come sappiamo, non esiste.